Il promontorio subtropicale che da più giorni interessa la nostra regione è in via di attenuazione, alta pressione che ha determinato una condizione anomala soprattutto per quanto riguarda il campo termico. Infatti le temperature massime nel corso degli ultimi giorni hanno varcato diffusamente la soglia dei 30 gradi centigradi fino a raggiungere localmente i 34-35 gradi e indubbiamente questi sono valori che si riscontrano durante le ondate di calore che si verificano nei mesi di luglio ed agosto. Tornando all'evoluzione per i prossimi giorni dalle analisi modellistiche emerge l'affonto di una depressione di origine scandinava sull'Europa centrale la quale rilascerà un vortice isolato sul bacino del Mediterraneo che andrà a determinare un cambio di circolazione. L'arrivo di aria fresca in quota andrà a generare condizioni di instabilità anche marcata con associate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Una parentesi dunque che riporterà le temperature su valori normali per il periodo in corso. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 28 maggio condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica in particolare nella seconda parte della giornata. Rovesci anche a sfondo temporalesco saranno probabili nelle aree interne con possibili sfondamenti anche su alcuni settori costieri. Temperature in diminuzione, venti deboli a tratti moderati da ovest nord ovest e mare da poco mosso a mosso. Domenica 29 cielo nuvoloso con una maggiore copertura nelle aree interne dove saranno possibili rovesci temporaleschi che localmente potrebbero assumere carattere grandinigeno. I fenomeni entro il pomeriggio tenderanno ad estendersi anche lungo la costa. Miglioramento dalla serata con attenuazione dei fenomeni. Temperature in ulteriore diminuzione con valori che si riporteranno in linea con la media del periodo. Venti deboli da ovest sud ovest con improvvise raffiche durante i fenomeni più intensi. Mare mosso. Lunedì insisteranno moderate condizioni di instabilità segnatamente nelle ore pomeridiane quando lungo la dorsale appenninica saranno possibili isolati rovesci. Da martedì il promontorio subtropicale tenderà nuovamente ad espandersi verso nord a causa dell'affondo di una depressione a largo del Portogallo. Aria molto calda dunque affluirà nuovamente sulla nostra regione così come su tutto il centro sud della nostra penisola. Avremo dunque la seconda ondata di calore di forte intensità che andrà ad accentuare l'anomalia termica di questo finale di primavera. Per maggiori dettagli invito come sempre delle spettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile. Grazie a tutti.